10 5 4 3 2 1 vai 30 destra 3 in sinistra 2 tieni in destra 3 apre 50 e destra 3 2 tempi diventa 4 no 30 sinistra 2 tieni e subito destra 2 secca apre 100 e alle piante sinistra 5 tieni e subito destra 3 apre 50 e sfiora sinistra 4 apre 100 e sinistra 2 2 50 sinistra 5 tieni in in destra 2 2 tempi in destra 2 2 tempi in sinistra 4 in sinistra 3 tieni e subito destra 2 e subito 2 2 la destra 4 e subito destra 3 e subito sinistra 2 in destra 3 secca apre 3 secca apre e subito sinistra 5 tieni e subito destra 2 2 e subito gancia sinistra 3 e subito destra 3 apre in sinistra 2 apre 50 e alla casa destra 2 in sinistra 4 apre sconnessa 100 e alla piante sinistra 3 apre 50 e destra 2 apre 2 apre 50 sinistra 2 in di nuovo sinistra 2 30 e taglia sinistra 4 tieni in destra 2 2 la destra e subito sinistra 5 e subito destra 5 in fila a rail sinistra 4 sporca e subito destra 4 a rail diventa 2 gira molto in al cartello destra 3 tieni e subito sinistra 3 chiude 2 la casa gira in destra 2 chiude in sinistra 3 in destra 3 gira e subito sinistra 4 in destra 4 tieni e subito attenzione sinistra 2 in in ritarda destra 3 2 tempi la seconda sporca e subito alla casa sinistra 2 2 tempi e subito destra 4 2 tempi la seconda tieni e subito sinistra 3 in stai a sinistra destra 4 lunga stretta in uscita in subito anticipa sinistra 2 e dosso su sinistra 4 tieni e subito destra 3 apre 50 dosso dritto in sinistra 3 e subito destra 3 occhio interno in sinistra 2 secca apre 100 e sfiora destra 5 30 sinistra 3 30 e rail destra 2 2 rail in sinistra 3 sudosso e subito destra 4 2 tempi la seconda tieni e subito sinistra 2 secca apre in di nuovo sinistra 2 in destra 3 sconnessa 4 e 12 e subito